Il bilancio dell'incidente della Marmolada è ormai definitivo, 11 vittime tra corpi ritrovati e dispersi, ma si cercano ancora reperti tecnici, ovvero le attrezzature e gli effetti personali degli alpinisti e le spoglie di chi ha perso la vita, da restituire ai familiari. Dopo la tragedia è il momento della riflessione. Se il crollo di un singolo seracco di ghiaccio è difficile da prevedere, nel complesso le montagne italiane mostrano una fragilità crescente a causa dell'inalzamento delle temperature. Una tendenza evidenziata dalle misurazioni scientifiche ma anche dalle testimonianze di chi queste vette le conosce bene. Sicuramente nella mia attività di alpinista e di soccorritore e di guida alpina, sono anche una guida alpina, non avevo mai visto niente di simile. Ho cominciato negli anni 80 a salire la marmolata, la salgo ancora adesso e negli anni 80 noi tranquillamente salivamo la marmolata su ghiacciai coperti di neve. Attualmente invece la saliamo su questa coltre ghiacciata e basta e il ghiacciaio si è ritirato come lunghezza e anche assottigliato come spessore. C'è stato un cambiamento notevole, ma questo è riscontrabile su tutte le Alpi, ma non solo, anche nei grandi ghiacciai, insomma, nelle altre catene montuose in giro per il mondo. Questo dramma dipende certamente anche dal deterioramento della situazione climatica, ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi. A lui e ai suoi omologhi stranieri il compito di prendere provvedimenti per evitarne altri in futuro.